Oggi è passata la prima giornata della Star Wars Celebration of the Nine, santo di Dio! Avete visto anche voi quello che ho visto io, abbiamo visto tutti il nostro suono, santo di Dio! Allora già il gas, già il gas di andare in un posto dove c'è solo scritto Star Wars dappertutto, Star Wars dappertutto, cioè è talmente tanto che dopo cinque ore c'avevo una marronella brasata che mi sembrava, mi sembrava, mi sembrava disvenire dai due marroni a far vedere Star Wars. Gli occhi due marroni, due marroni cosa, due marroni cosa! Ma avete visto il trailer? Ma avete visto il trailer, santo di Dio! L'avete visto? Puttana! Non l'avete visto? Mutana, eva tutta, anzolo, ciui! Siamo a casa, ci hai capito? La prima volta mi son gasato come grosso quando ha segnato con la Germania. La seconda volta non ho capito un cazzo perché c'erano quattro cosplayer vestito da Spongebob e la balena Giuseppina che mi schiantavano i marroni, non sentivo niente. La quinta volta sono andato nel cesco, mi scappavo una cagata della Madonna, ho messo il volume a panella nel mio nuovo smartphone gigante. Puttana, quando salta fuori nel buio che si sente... Chewie? Ho detto, no, ho detto... We are home. C'è una lacrima furente squizzata fuori dal condotto lacrimale. Puttana, ho spruzzato completamente alla porta del cesso della Nime che sembrava che ci fosse... Avete presente quelle fontane un po' zen che si intorno agli strani cinesi? Uguale, puttana, puttana, ho pianto come un babuiro senicalese. Oh figlia, puttana! Poi l'ho rivisto, l'ho rivisto ancora, l'ho rivisto i costumi. Ma i costumi... Lo Storm è un po'... In effetti è un po'... Cioè, se mettevano l'armatura dello Storm vecchio e paperino è un po' simile. Cioè, nel senso che c'è questo... Però, vista dal vivo, se sei un metro e ottanta, se sei un bel salamandrone, secondo me sei un figo da madonna, sei chesato duro, sei tutto bene, impettito con questo... Se sei un metro e settantacinque, fai un po' ridere, secondo me. Cioè, sei un po' paperinato, no? Cioè, capito? Già gli americani fanno i fenomeni. Gli americani fanno i sbrunicchiati... Il Dog Trooper lo chiamano, vabbè. Ma poi c'è quell'altro che spara le fiamme, quell'altro che sta nella neve, puttana! Sono una roba completamente diversa, con questi due bei TIE che... Si vede il pilota dei TIE Fighters, santo di Dio, con quelle due lacrime rosse, incassate a me! Puttana, si è incassate a me! Poi poi c'è quel millennium che si infila dentro il Super Star Destroyer, sì, perché secondo me è molti che credono che sia uno Star Destroyer. Invece, se guardate la posizione degli scappamenti, gli tubi di scappamento, secondo me è un Super Star Destroyer. Ma io, ma io non so, ma una roba così... L'altro hanno fatto i fenomeni, con questo Spada Croce, con questo Magno, con questo pallone... Adesso qui... Spam! Emozione! Puttana, tutta un'emozione! Una roba continua! Fortuna che sono andato un attimo quei 20 minuti nel bagno a fare la cacca, perché sennò mi esplodevo tutto! Vabbè, che schifo solo l'idea di... Puttana, ragazzi, questo qui è solo il primo giorno, io se continuo così, ragazzi, mi do una saravanata tra Mustang a destra e Manca, tra Dodge Challenger a sinistra e a destra, tra SUV con le gomme che sono più grandi del SUV, e poi sti giponi che quando mettono la DD Drive, danno i gas, dei vuoti, puttana qua l'America, tutto così, c'è l'America, una roba, una roba, una roba, stellari, qua ragazzi nella religione, altro che la chiesa, la gente, la gente la domenica mattina va nel deserto a pregare le dune, va a pregare le dune, capito? Nella speranza che salti fuori, che trovino un pezzo di metallo dorato, che dicono, ci trepioniamo, andiamo, non è che dopo ci... qua sono dei convintoni della Madonna ragazzi, altro che noi in Italia, che noi siamo i Patacca, forza Totti, forza Roma, ma cosa volete fare Totti Roma con quelle crestine di merda, santo Dio, ma guardate guerra stellari, oh, ragazzi ci vediamo domani.